Buonasera a tutti, eccola qui la finale della seconda tappa del torneo Futsal Ranking Up riservata ai ragazzi per il 95 e poi. Si affronteranno per questa finalissima Wild Boys contro Planet Win 3-6-5. Inbucata per Simeone che si gira molto bene, attenzione al limite e c'è il gol, 1-0. Sblocca il risultato per Luca Simeone. Attenzione la sorpresa di Silvio, prova a sorprendere Landucci che non era posizionato benissimo. Per l'altro sbocchia, attenzione, la palla è buona. Il barco giusto per far male all'avversario tipo questo per Manni che serve molto bene di Dacoriccio. Ancora Riccio, gol mancato, clamoroso da Nikolas Riccio. Scarico per Simeone al limite, perde un po'. L'attimo giusto, ma riesce con una finta sulla fascia, palla a Nikolas e c'è il raddoppio. Raddoppio Wild Boys, perde palla però e c'è un'ottima risposta di Landucci su non è entrato Davide Bruscagin. Adesso attenzione, attenzione, sbocchi, sbocchi e c'è il miracolo di Landucci. Sbocchi si libera per il tiro e c'è il gol. Accorcia le distanze, Planet Win grazie al numero 6, Yuri Sbocchi. Paruntini sulla fascia, vediamo, tenta il tiro. Alessio testa sicuro, mette in angolo. Attenzione nel contropiede, Yuri Sbocchi l'autore del gol. Forse perde l'attimo e invece riesce a concludere ma spedisce fuori alla destra del portiere. Perde palla, attenzione, sbocchi solo davanti al portiere, sbocchi, sbocchi lo salta e c'è il gol. Arriva al pareggio, Planet Win grazie a Yuri Sbocchi. Una spina continua nel fianco per Wild Boys, lotta su tutti i palloni come questo che addirittura va a colpire il palo con il sinistro. Lascia scorrere Daniele Testa e c'è la tripletta personale per Yuri Sbocchi. Attenzione, il tiro e arriva il pareggio di Wild Boys con una bomba di Pierluca Simeone, doppietta anche per lui. Riccio scarica per i con, attenzione, Simeone tutto solo sul secondo palo, servito in qualche modo e manda fuori clamorosamente con Alessio testa a terra. Adesso molto bene Baruntini, antici ma perdendo di Silvio. Attenzione, Baruntini avvia in fascia, scarica al centro per Riccio che a sua volta manda fuori. Lo scarica per Icon, 1-2, con Nicolás Riccio che va al tiro. Attenzione, bellissima azione paratone di Alessio testa e Nicolás Riccio manda fuori da buona posizione. Peccato per l'esecuzione finale. Adesso Riccio si libera di nuovo, va al tiro, un altro palo. Partita piena di pali. Palla per Brusca Gin che mette giù. Saci entra, scarica al destro e c'è il gol. Vantaggio, Planet Win. Riparte Landucci, la terza volta in questa partita. Molto bene, scarico per Simeone, Riccio, Riccio a porta vuota e c'è il gol. Che scambia palla. Attenzione, lo sbaglio. E c'è il salvataggio di Maurizio Landucci per Brusca Gin che non tiene in campo la palla. E c'è il fischio finale. Partita che verrà decisa ai calci di rigore. Che to Nicolás Riccio per Wild Boys, contro testa. Parte il tiro e c'è il gol. Sistema al palone. In corsa. Spiazzato Landucci, 1-1. In corsa corta parte il tiro. Eh! In corsa corta anche la sua, qualche passo in più. Parte il tiro e va fuori. Versaggi per il vantaggio Arancione. In corsa più lunga la sua. Parte con il sinistro. Spiazzato Landucci. Va Barontini. In corsa corta. Mette dentro anche lui. Mattia Cero dal dischetto. Se sbaglio è finita. In corsa lunga parte il tiro. E c'è la parata di Maurizio Landucci. Finisce qui. Vince Wild Boys.